Ultime battute per quanto riguarda questa sera, siamo in diretta su Riso Radio, adesso la dinonda, attenzione, silenzio, non parlate. Nuggets and Bell, I decide, poco più di mezz'ora alla mezzanotte, ricordiamo questo incidente che sta interessando già da un po' la 1 tra Valdarno e Firenze Sud in direzione di Firenze, un chilometro di coda, l'incidente esattamente tra Incisa Reggiale e Firenze Sud verso Firenze al chilometro 318, intanto Luca ci informa che sulla careggiata interna del grande raccordo anulare all'altezza della 24 Roma-L'Aquila stanno fermi. Non abbiamo ancora segnalazioni ufficiali relativamente al grande raccordo anulare, però grazie per questa tempestiva informazione, caro Luca, intanto può servire ad altri che stanno percorrendo il grande raccordo anulare, siamo in attesa di una conferma ufficiale. Nel frattempo ricordiamo che ci sono problemi per la neve, un'altra strada statale che si è aggiunta a lungo elenco di problemi nevosi, ci sono dei rallentamenti sulla statale 67 Tosco-Romagnola per la neve tra San Benedetto in Alpe e Bocconi. In entrambe le direzioni i rallentamenti all'altezza del chilometro 150. Ricordiamo anche l'incidente che si è verificato nel corso del pomeriggio in A14 tra Foggio e Cerignola Est e verso Bari al chilometro 578 e 200, che ho visto un auto articolato ribaltato su un fianco che trasportava del grano, quindi insomma sono ancora lunghe le operazioni di ripristino, sia per rimuovere il mezzo ma anche per recuperare almeno parte del carico. Adesso si torna alla musica, Bruce Springsteen con All the Way Home. Mezz'ora e mezzanotte sarà arrivata.